In una serra piccolina una persona a scopo medico, ludico, dopo cinque mesi ne veloce, se no, si affortuna 100 grammi e non gli dà la malavita. È ormai diventato un simbolo della lotta per la cannabis terapeutica Walter De Benedetto a retino, affetto da una grave forma di artrite reumatoide finito nei guai dopo il blitz dei carabinieri nella sua abitazione. Lì, infatti, i militari avevano trovato una serra di marijuana. Per un amico, sorpreso ad innaffiare le piante, erano così scattate le manette. Adesso, però, una sentenza epocale delle sezioni unite ai penali della Cassazione ha stabilito che non costituirà più reato coltivare in minima quantità e solo per uso personale la cannabis in casa. Ovviamente la sentenza non significa che sia cambiata la legge, ma è comunque un passo importante in avanti per il trattamento giuridico dei casi simili in Italia, appunto come quello di Walter. Certamente, però siamo ancora in una zona grigia e quindi è bene che non è giusto che un malato debba andare dietro a quel che dice la politica, che si sposta una volta di qua e una volta di là, fa promesse in campagna elettorale e poi le mantiene, solo per paura di questo fiore del male. La malattia con cui da anni convive Walter provoca forti e costanti dolori, leniti solamente in parte dalla cannabis terapeutica, ma la dose che gli veniva fornita dal sistema sanitario, oggi raddoppiata, non era più sufficiente da qui la decisione di coltivarla illegalmente in casa. Sono stato costretto dalla necessità di questo momento chiesto, bastava così poco.